We're going to speak English today. Oggi parliamo in inglese perché parliamo di Brexit. La Brexit è avvenuta, l'Inghilterra, anzi il Regno Unito come viene chiamato, si è separato dall'Europa, un grave danno, un grave danno per l'Europa, un grave danno per il Regno Unito. Perché si è arrivati alla Brexit? La storia è lunga perché mentre parliamo di Brexit dobbiamo introdurre un altro tema e il tema è più, diciamo, più congro e anche forse più serio perché la Brexit rappresenta in un certo modo la fine dell'impero inglese. Pochi sanno che all'inizio del secolo, del 900, del secolo scorso, diciamo 1920 per dire una data, il paese più grosso del mondo, quello che aveva il prodotto interno lordo più alto, quello più ricco, quello con più domini, con più soldi, con più colonie, con più presenza nel mondo, era l'Inghilterra. L'Inghilterra nel 1920 dominava il 27% della popolazione mondiale di allora, che era di un miliardo e sei, e dominava il 26% della, cioè un quarto anche lì, un po' più di un quarto, del territorio mondiale. Cioè qualcosa come un milione e seicentocinquantamila chilometri quadrati, me lo so scritto perché è un numero altissimo. E ci è arrivata attraverso tante conquiste, ci è arrivata un giorno ovviamente, ma ci è arrivata, diciamo, in un periodo che possiamo porre, quello che gli inglesi chiamano Pax Britannica, che va dalla fine, diciamo, dell'impero Napoleone, quando Napoleone viene sconfitto appunto dagli inglesi a Waterloo, 1815, dalla pace che ne consegue, da allora gli inglesi diventano padroni del mare sostanzialmente. Ebbene, dall'815 al 1920, cioè dopo la prima guerra mondiale, l'Inghilterra si impadronisce del mondo. Tutta l'India, una buona porzione di Africa, ma direi quasi la più grossa. Qui c'è una storia ovviamente, c'è la storia della Rhodesia, anzi c'è la storia di una persona, un certo Cecil Rhodes, che inizia andando in Sudafrica per fare l'agricoltore. Poi si imbatte, adesso così recita la leggenda ovviamente, si imbatte in una pietra un po' particolare, che guarda a casa è un diamante enorme, ne capisce il valore, scambia l'agricoltura con la raccocco le miniere, diventa il maggior, come dire, proprietario di aziende di miniere e di diamanti, fonda la De Beers, che tuttora oggi esiste sul mercato, e poi essendo molto ambizioso e molto forte, cosa fa? Comincia a comprare tutto ciò che è miniere intorno ai vari paesi, poi truffa il re del paese appena sopra la Sudafrica, che oggi si chiama Zimbabwe, ma allora è diventato poi Rhodesia del sud, e comincia a fare miniere d'oro, si prende la Rhodesia del nord, che attualmente si chiama Zambia, e praticamente l'Inghilterra si prende tutto l'acrocoro, praticamente, che arriva fino su verso l'Egitto, praticamente una parte, come dire, enorme dell'Africa. Se vedete la piantina dei possedimenti inglesi del 1920, sono impressionanti. Cioè, quando muore la regione Vittoria, muore alla fine dell'Ottocento, verso i primi del Novecento, se guardate quella piantina, praticamente vi rendete conto della presenza infinita dell'Inghilterra nel mondo, dal Canada fino all'Australia. passando per l'Africa e passando per tutta l'Asia. L'unica potenza che la, come dire, che la poteva controbattere era ancora la Francia, che ha una storia similare, un po' meno forte dell'Inghilterra. Anche lei molto forte nelle colonie, molto forte in Africa, molto forte nel sud-est asiatico, abbastanza forte negli Stati Uniti e nella parte canadese e francese, diciamo così, ma comunque inferiore. Ma di fatto noi stiamo parlando del primo paese, del secondo paese in termini di PIL. Questa è praticamente la fotografia, diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale. Cioè, l'Inghilterra è il padrone del mondo. Cent'anni dopo l'Inghilterra fa la Brexit. E, diciamocelo, non ha più nulla. Perché cosa avviene in questi cent'anni? In questi cent'anni, pian piano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che l'Inghilterra vince, peraltro, dopo quel periodo, inizia un periodo in cui avviene una fase di decolonizzazione del mondo, perché cambiano gli equilibri mondiali. Perché si rafforza tantissimo, si rafforzano tantissimo gli Stati Uniti, si rafforza, come dire, una nuova linfa, un nuovo geopolo, ecco, chiamiamolo così, perché noi parliamo sempre di geopolitica. I vecchi geopoli, che erano la Francia e l'Inghilterra, praticamente, si cominciano a sottigliare a favore dei nuovi geopoli, che in quel momento diventano i vincitori, anche loro, della Seconda Guerra Mondiale, che sono, da un lato, gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato, la Russia comunista di Stali. In mezzo rimane l'Inghilterra, che cerca, disperatamente, in una fase, però, in cui questi due geopoli, che combattono la guerra fredda, chiaramente, permettono alleanze che fanno sì che la decolonizzazione avvenga. La prima di queste, ovviamente, l'India, che nel 1947 lascia, si autonomizza, diventa indipendente, e poi, dagli anni 50, in tutti gli anni 60, praticamente tutte le colonie inglesi si autonomizzano, diventano indipendenti, parte l'Egitto, poi il Kenya, le Rhodesie, l'Inghilterra, pian piano, come dire, sta perdendo, in quel periodo, insomma, nel periodo che va dal dopo, guerra, sta perdendo tutte le colonie. Di fatto c'è ancora il Commonwealth of Nations, che sono i Dominions, come li chiamano in Inghilterra, ovvero sia la regina, è regina anche di Australia, di Nuova Zelanda, del Canada, però non è che va in Canada e comanda, si hanno dei loro rubotenenti, insomma, c'è un po' di rapporti, però il rapporto è più formale che non sostanziale. Cioè l'Inghilterra, praticamente, in questi 70 anni, si è persa il mondo. Cinque o sei anni fa, l'Inghilterra che era entrata nell'Unione Europea, con uno status un po' particolare, la moneta rimane la sua, la banca rimane la sua, vuole avere più autonomia rispetto all'Europa, e inizia un negoziato. E questo negoziato lo fa Cameron. Il negoziato inizia di fatto nel 2014. Il negoziato va avanti dal 2014 fino al 2016. Nel 2016 il negoziato si chiude con una non vittoria degli inglesi, di avere mano libera in Europa, cioè di stare in Europa, ma con una mano libera infinita, cioè di poter, come dire, mettere il veto su ogni decisione che il Consiglio Europeo prendeva, oppure di poter, come dire, non partecipare a un'unione più stretta, come veniva chiamata allora. Però ottiene di più di quello degli altri paesi, diciamocelo sinceramente, cioè è un paese membro dell'Europa, ma con meno attaccamento e più maggiore potere di autonomia. Cameron riesce a negoziare questo, sul negoziato pensa di avere in mano, come dire, un'arma politica molto forte per consolidare il suo potere. guardate bene, per consolidare il suo potere nel Partito Conservatore e anche nell'opinione pubblica, di dire all'opinione pubblica inglesi, io vi ho difesi in Europa, noi in Europa contiamo di più, possiamo fare, tra virgolette lo dico, quello che vogliamo. E allora ha l'idea di lanciare il referendum, referendum, che è un referendum di cui, la cui portata, io credo che Cameron non se la sia neanche posta, la portata storica che questo referendum ha avuto e sta avendo, perché l'ha lanciato con una domanda molto semplice, vuoi rimanere in Europa oppure no? insomma. Tanto che è leave o remain, queste erano le due opzioni. E l'Inghilterra si spacca, perché Cameron non ha, come dire, ragionandoci a posteriori ovviamente, non ha considerato una cosa, che è la cosa poi principale che vi ho detto milioni di volte e quindi ricordiamoci, non ha considerato che la classe media in questi 70 anni dal dopoguerra ad oggi si è impoverita moltissimo. E la classe media inglese, peraltro con un DNA imperiare, con una, come dire, con un fortissimo senso di indipendenza e di autonomia, la classe media che si era impoverita a causa della globalizzazione del mondo, gli ha detto no. noi non vogliamo l'Europa. Il Leave ha vinto per il 52%, non ha vinto in tutta l'Inghilterra, ha perso per esempio il Remain, cioè per rimanere in Europa la Scozia ha avuto il 67%, l'Irlanda del Nord ha avuto il 62%, il Galles ha perso per poco, quindi Londra era prevalentemente, la città di Londra era per rimanere in Europa, ma la provincia inglese, che è ancora molto forte, ha prodotto il risultato che Cameron non voleva. E lì è iniziata una storia poi che tutti avete seguito, ovviamente, infinita, tra il 2016 e il 2021, che ci sono stati cinque anni, praticamente, anzi il 2020, perché lì è il momento della Brexit, la notte del 31-12 alle 11, cioè ora locale, ebbene, lì è avvenuto quello che doveva avvenire, cioè hanno negoziato disperatamente per, sembrava quasi che ci fosse un no deal, ricordate questi mesi scorsi, un no deal, e invece alla fine, proprio sull'ultimo, non miglio, ma centimetro, Boris Johnson, che politicamente ha sfruttato la Brexit per diventare il primo ministro, perché lui da conservatore vicino a Cameron è stato il primo a sposare la Brexit contro, cioè sposare, diciamo, il no all'Europa rispetto al sì che invece Cameron aveva, quindi è diventato il suo antagonista all'interno del Partito Conservatore, la mediazione è stata Theresa May, Theresa May ha tentato per tre anni di negoziare, non ce l'ha fatta, l'ha mandata a casa, hanno fatto delle altre elezioni, ha vinto Boris Johnson, Boris Johnson ha negoziato, è arrivato fino all'ultimo centimetro e ha negoziato un accordo abbastanza buono, direi. L'Inghilterra è sostanzialmente fuori dall'Europa, però non è il mercato comune, rimane, non ci sono, come dire, le norme della trade, della World Trade Organization per quella dei DASI, per capirci, per le merci che entrano e escono, però ci sono una serie di regole che sconvolgono ovviamente un rapporto come eravamo abituati. Allora, l'altra domanda che ci si pone è dove va l'Inghilterra? Innanzitutto ha tre problemi in casa, la Scozia, l'Irlanda del Nord e il Galles. Forse il Galles è meno problematico, ma senz'altro la Scozia cercherà di fare un referendum per diventare indipendente e riaderire all'Europa. Avverrà, non avverrà, è molto difficile, però questa è la linea che la Sturgeon sta lavorando e sarà la linea che terrà nei prossimi due anni. Sull'Irlanda del Nord tutto è più difficile perché giocano anche come dice, una battaglia religiosa che tutti quanti ricorderete, è un po' più complessa ma è anche più semplice perché l'Irlanda del Nord ha votato a favore dell'Europa e già con l'Irlanda un accordo credo che lo troveranno più facilmente di là che non di qua. Quindi alla fine di tutta questa vicenda che cosa rimane? Rimane un problema enorme a Inghilterra perché geopoliticamente l'Inghilterra se rimaneva in Europa trattava con l'Europa. Oggi è da sola in mezzo isola come sempre è stata in mezzo a questo grande mare raccordo e cernira tra gli Stati Uniti e l'Europa ma gli Stati Uniti sono un grande geopolo l'Europa è un grande geopolo quindi se trattano trattano tra loro non hanno più bisogno come dire per parlare con Parigi con Berlino anche con Roma prima andavano a Londra si mettevano d'accordo e poi venivano da noi non so come se spiego con questa piccola metafora da viaggio oggi questo non sarà più cioè politicamente non sarà più non hanno diciamo Washington tratta con Bruxelles poi tratterà con gli altri paesi con la Germania con la Francia con l'Italia con i più grossi con quelli che vorrà trattare non ha più bisogno dell'Inghilterra per mediare per capire per sapere perché è fuori l'Inghilterra è fuori i suoi dominions rappresentano molto poco su 143 milioni compresa l'Inghilterra quindi come popolazione molto bassa tenete conto che l'Europa vale oggi circa 17 trilioni da sola l'Inghilterra ne vale 2.5 quindi rimane un paese forte un paese ancora importante un paese senz'altro solido però da solo nel mare delle lotte tra i grandi geopoli e allora che fine potrà fare se si spacca poi con il Galles con la Scozia con l'Irlanda saranno problemi ovviamente ma immaginiamo che queste cose siano un po' più nel tempo io credo che così a naso avendo una solida posizione nel terziario soprattutto nel mondo finanziario l'Inghilterra cioè Londra anzi Londra più che l'Inghilterra diventerà una città stato una città riferimento come dire mondiale un po' come lo è Singapore per nella parte asiatica cioè un punto non vorrei essere riduttivo ovviamente perché l'Inghilterra è molto più grossa però vorrei dire un punto di riferimento mondiale per la finanza per un certo tipo di finanza sul piano dei rapporti geopolitici complessivi il suo ruolo diminuirà di anno con anno e se poi ha all'interno anche ulteriori problemi la difficoltà aumenteranno sempre di più per l'Europa è un problema e concludo con questo è un problema perché non avere l'Inghilterra al di là che è una fetta importante del suo fatturato del suo diciamo del suo da grande geopolo l'Inghilterra è parte culturale dell'Europa l'Inghilterra è l'Europa noi ci siamo scannati noi europee ci siamo scannati per 2000 anni tra di noi e l'Inghilterra in questo ha avuto sempre un grandissimo ruolo centenni fa insieme alla Francia erano i padroni del mondo ed erano europei e si sentono europei e sono europei se da un lato forse l'Inghilterra trova una via di uscita nella finanza mondiale io credo che l'Europa dovrà far di tutto per cercare di tenere l'Inghilterra sempre di più sempre di più vicino a se stessa a presto seguiteci seguiteci su YouTube seguiteci sui social seguitici sul nostro sito e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti